e ciao a tutti eccoci in questo nuovo video in questo nuovo video siamo in minecraft di nuovo e andremo a vedere dei mondi in minecraft un po diversi dal dal solito infatti se noi andiamo a creare un nuovo mondo vabbè qualunque modalità mettiamo possiamo andare altre cose del mondo altre come si chiamano altre opzioni del mondo e praticamente possiamo fare a mondo tipo di mondo personalizzato possiamo fare personalizza e possiamo decidere diverse cose ad esempio oceani di lava che non so come sia possibile ma ci stanno pure tutte queste cose con i tentativi di generazione praticamente noi possiamo togliere questi tentativi di generazione ovvero significa che la generazione cioè non verranno generate queste cose e ad esempio noi possiamo mettere per generazione di dei minerali altezza massima così grandezza delle vene grande proprio allora questo ok no perché praticamente andiamo allora anche così mettiamo grande pure questa mettiamo per tutti i minerali che ci stanno e diamante pure e diamante pure soprattutto grandezza delle vene e mettiamo pure questo così braccio di diffusione di 255 sempre se andiamo avanti vabbè non importa cosa c'è avanti facciamo fatto e adesso noi facciamo il nuovo fatto qua e andremo a creare questo nuovo mondo che sarà epico per forza in modalità creativa vediamo sicuramente sicuramente l'abbia oddio mi sa che l'abbia un po troppo eccolo allora adesso noi ci alziamo e come vedete ci stanno dappertutto queste cose cioè ci stanno dappertutto diamanti oro vedete stanno nella montagna è epico guardate stanno dappertutto e quindi è bellissimo pure sotto acqua no sotto acqua no in realtà però anche nelle montagne più alte naturalmente a questa altezza sarebbe impossibile trovare i diamanti però mettendo queste cose ah tipo guardate questo guardate qua è epico pure questo però si possono fare ancora altre cose ad esempio voglio trovare un oceano però non credo che ci sia cioè c'è l'oceano però vediamo più veloce si possono creare sicuramente anche ah ma non se stanno qua dentro nel villaggio nelle cose di costruzione vediamo che cavolo ci fa la lava così vabbè non so vediamo no nel villaggio non ci stanno però sicuramente adesso infatti proveremo se facciamo salvo e torno al menu principale se andiamo a creare un mondo sicuramente possiamo fare ancora altre cose in più infatti noi facciamo così togliamo tutto sicuramente va fatto così allora 0 vabbè 1 1 bioma vabbè tutti granzia dei fiumi no granzia dei pioni pure più grande e facciamo avanti 0 0 tentativi generazione 0 mettiamo 0 a tutto praticamente proviamo se mettiamo 0 a tutti questi che mi sa che prima non ho tolto facciamo così così un attimo ci vuole un po' per farlo praticamente vorrei provare a fare un mondo tutto pieno di diamanti solo diamanti vediamo siamo a redstone non la togliamo pure questa diamanti allora facciamo così così 0 pure questi la pistola azzuli facciamo così 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 e così avanti cosa ci sta questi non lo so come funzionano buona tipo una cosa del genere voglio provare adesso anche fatto creiamo un nuovo mondo vediamo come lo crea che non so bene volevo provare a fa eh e diamanti ecco ecco sbagliato noi dobbiamo fare così per forza per trovare i diamanti vabbè andavano modificate pure sicuramente x e y le coordinate però sì arriviamo alla fine magari ecco vedete qua se io rompo iniziano ad essere tutti i diamanti oddio ah si può morire pure in modalità creativa vabbè non lo sapevo però comunque non è non non di sicuro così per fare per trovare un mondo pieno di diamanti però comunque farò altri video di questi volevo provare a farlo anche così però come avete visto questo si può eh qual è il nuovo mondo quale di questi dovrebbe essere questo e appunto come avete visto si possono che figo questo possono trovare diamanti eh e tutti gli altri minerali dappertutto vediamo ah andiamo lì che era dove eravamo prima tengo più veloce almeno riesco a farlo andare più veloce eh va bene così ah eccolo dove era mi sa sì tutti i diamanti era qua appunto ve lo vi lascio così per farvi vedere meglio vabbè proverò a fare altri mondi ce ne stanno un sacco che se ne possono creare appunto come uno preferisce in questo primo video abbiamo fatto quello dei minerali però non sono riuscito a capire come andava fatto quello proprio solo diamanti se vi è piaciuto questo nuovo video di minecraft non so come li chiamerò questi video però mi farò venire un nome in mente spero che vi piacciano e ditemi se volete altri tipi di video di questi per vedere mondi personalizzati appunto e se vi è piaciuto questo nuovo video iscrivetevi e lasciate un like ci vediamo ciao a tutti